S'ultima luce del giorno, parla del dramma dell'immigrazione, di tutte quelle persone che perdono anche la vita con la speranza di trovare un mondo migliore. Musica 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 a tuoi su ultima lume sardie no s'es l'ascende s'es istudente a su te gustute no a ruti se te qui non rie se te qui non rie non rie savie e tam et savie a su te gustute e uuuu 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 stai mangiando bene